ad argentel la chiamavano la regina hortensia nessuno ne conobbe mai il motivo forse perché parlava con lo stesso tono di un ufficiale che comanda forse perché era grande ossuta imperiosa o perché governava un vero popolo di bestie domestiche polli cani gatti uccellini e pappagalli quelle bestie care alle zitelle pure ella non aveva per questi animali familiari né le debolezze né le paroline leziose e nemmeno quelle tenerezze infantili che sembrano scivolare di solito dalle labbra delle donne sulla morbida pelliccia del gatto che fa le fusa la regina hortensia governava invece con autorità le sue bestie regnava era proprio una zitella una di quelle zitellone dalla voce sgradevole i testi rigidi in cui animo sembrava cattivo erano capitate sempre delle brave servette perché la gioventù si piega con maggior docilità alle volontà più forti non ammetteva mai contraddizioni repliche o esitazioni incurie né pigrizia né stanchezza nessuno doveva mai intesa lamentarsi o rimpiangere una cosa qualunque invidiare qualcuno diceva ognuno alla sua parte con convinzione fatalistica non andava in chiesa non vedeva di buon occhio preti non credeva in dio chiamando anzi ogni cosa religiosa cianfusaglia per piagnoni da trent'anni che abitava nella sua casetta circondata da un minuscolo giardino sulla strada ella non aveva mai modificato le proprie abitudini cambiando soltanto le domestiche senza pietà quando raggiungevano i ventunanni impiazzava senza lacrime senza rimpianti i cani i gatti e gli uccelli quando morivano di vecchiaio per qualche incidente e sotterrava i trapassati in una iola nel centro di una piantagione poi ci ammucchiava la terra sopra con gesti indifferenti conosceva in città certe famiglie di impiegati che andavano tutti i giorni a parigi ogni tanto la invitavano a prendere il tè la sera inevitabilmente ella finiva con l'addormentarsi in queste riunioni bisognava svegliarla al momento in cui doveva tornare a casa sua non permise mai che qualcuno la riaccompagnasse poiché non aveva mai paura né di giorno né di notte sembrava che non volesse bene ai bambini passava il tempo in mille faccenduole mettendo in ordine il giardino tagliando la legna con la sega con l'accetta riparando la sua vecchia casa e facendo persino da muratore quando occorreva aveva dei parenti che venivano a trovarla due volte l'anno i signori sim e colombell poiché le due sorelle avevano sposato l'una un erborista l'altra un piccolo proprietario i sim non avevano figli i colombell ne avevano tre enrico paolina e giuseppe enrico aveva venti anni paolina 17 e giuseppe tre anni soltanto essendo arrivato qua giù quando sembrava impossibile che sua madre potesse ancora avere bambini nessun sentimento di tenerezza legava la zitella ai suoi parenti nella primavera dell'ottantadue la regina hortensia si ammalò improvvisamente i vicini andarono a cercare un dottore che la vecchia cacciò in malo modo e poiché si era presentato anche un prete e la uscisse minuta dal letto per gettarlo fuori di casa spaventatissima la giovane domestica le preparava tisane dopo tre giorni di malattia la situazione parve essere diventata così grave che il bottaio suo vicino in seguito al consiglio del medico rientrato d'autorità in casa si prese l'incarico di mandare a chiamare le due famiglie dei parenti arrivarono con lo stesso treno verso le 10 della mattina i colombelli avevano portato con loro anche giuseppino quando le due famiglie si presentarono all'ingresso del giardino videro dapprima la domestica che piangeva su una sedia appoggiata contro il muro il cane dormiva sullo zerbino vicino alla porta sotto i raggi brucianti del sole due gatti che parevano morti erano sdraiati sull'orlo di due finestre gli occhi chiusi le zampe e la coda stese penzoloni una gallinona faceva passeggiare un battaglione di pulcini vestiti di piume gialline leggeri come l'ovatta attraverso il giardinetto e una grande gabbia attaccata al muro coperta di tela leggera conteneva un intero popolo di uccelli che garrivano nella luce di quel caldo mattino di primavera due inseparabili in un'altra gabbietta a forma di casetta se ne stavano buoni buoni vicini vicini sui loro trespoli il signor sim un personaggio grande e grosso che soffiava sempre che entrava dovunque per primo respingendo gli altri uomini e donne quando era necessario chiese ebbene celeste le cose non vanno la giovane domestica gemette tra i singhiozzi non mi riconosce più il dottore ha detto che siamo alla fine tutti si guardarono con circospezione senza pronunciare una parola la signora sim e la signora colombel si abbracciarono immediatamente si rassomigliavano molto perché portavano sempre i capelli divisi in due bande e certi scialli rossi di cashmere francese colorati e vistosi come bracieri accesi sim si rivolse al cognato un uomo pallido giallo e magro tormentato da una malattia di stomaco che zoppicava terribilmente e disse con il tono di chi è seriamente preoccupato per dinci è ora ma nessuno osava entrare nella stanza della moribonda posta al pian terreno perfino sim cedeva il passo agli altri fu colombel che si decise per primo ed entrò dondolando come l'albero d'un vascello facendo risuonare sul pavimento il punteruolo di ferro del suo bastone poi le due donne tentarono l'avventura e il signor sim chiuse il corteo giuseppino era rimasto fuori affascinato dalla vista del cane un raggio di sole tagliava in due il letto rischerando solo le mani che si agitavano nervosamente aprendosi e serrandosi senza posa le dita si muovevano come se ancora un pensiero li animasse come se significassero l'esistenza di qualche cosa l'obbedienza a certe idee ad una intelligenza tutte le altre parti del corpo rimanevano immobili sotto il lenzuolo l'angolosa figura non trasalì gli occhi rimasero chiusi i parenti si piegarono in un semicerchio e si misero ad osservare senza parlare e si misero ad osservare senza parlare quel petto stretto quel respiro corto la servetta li aveva seguiti e piangeva sempre a calde lacrime dopo un po sim chiese che cosa ha detto di preciso il medico la domestica balbettò ha detto di lasciarla tranquilla che non c'è più niente da fare all'improvviso però le labbra della vecchia zitella si mossero sembrava che pronunciassero parole silenziose parole nascoste in quella testa di moribonda e le mani acceleravano i loro strani movimenti d'un tratto ella si mise a parlare con un'esile vocetta magra che nessuno le conosceva con una vocetta che sembrava venire da lontano dal fondo di quel cuore forse sempre chiuso sim se ne andò in punta di piedi perché trovava che quello spettacolo era particolarmente penoso colombelle che sarà stancato per via della gamba matta si mise a sedere e due donne restavano in piedi la regina ortensia farfugliava ora parole confuse svelta svelta senza che nessuno arrivasse a comprendere bene pronunciava dei nomi molti nomi chiamava teneramente persone immaginarie vieni qui filippo bello abbraccia mammina tua quanto bene vuoi a mamma rosa va a sorvegliare la tua sorellina ora devo uscire non lasciarla mai sola mi raccomando e soprattutto non toccare i cerini restava in silenzio per qualche secondo poi con un tono più alto come se chiamasse qualcuno erichetta aspettava un po poi ricominciava dia papà che venga a parlarmi prima di andare in ufficio e subito oggi non sto tanto bene cocco mio promettimi di tornare presto dirai al capufficio che sono ammalata ti rendi conto di quanto sia pericoloso lasciare soli i bambini quando io sto a letto per colazione ti preparerò un bel piattone di riso piace tanto ai bambini e clara quanto sarà contenta si metteva a ridere un riso giovane e bruciante come non aveva riso mai guarda gianni che fazzino buffo ti ha impiastrato tutto con la marmellata quello sporcaccioncello guardalo quanto è buffo colombelle che cambiava continuamente posizione alla gamba stanca per il viaggio morborò sogno ad avere un marito e tanti bambini è l'agonia che comincia le due sorelle non si muovevano affatto sorprese come imbambolate la servetta disse volete posare gli sciagli e i capelli volete favorire in sala da pranzo uscirono senza aver aperto bocca e colombelle seguì zoppicando lasciando nuovamente sola la moribonda quando si furono sbarazzate dei loro apparati da viaggio le donne si misero finalmente sedute allora uno dei gatti abbandonò la sua finestra si stirò saltò nella stanza e poi sulle ginocchia della signora sim che prese a carezzarlo si sentiva dall'altra stanza la voce della morente che viveva in quell'ora la vita che aveva senza dubbio aspettata che viveva nei suoi sogni nel momento in cui tutto stava per cessare definitivamente sim nel giardino giocava con giuseppino e col cane divertendosi molto con l'allegria di uno maccione che è in gita in campagna senza ricordarsi più dell'amoribonda un tratto rientrò e volgendosi alla domestica disse di un po ragazzina se ci preparassi qualcosa da mangiare che volete per pranzo signore mie si misero d'accordo su una frittatina al prezzemolo una fettina di filetto con le patatine nuove un pezzetto di formaggio e una tazza di caffè ma poiché la signora colombelle frugava nella tasca per cercare il suo portamonete sim la fermò e rivolgendosi alla servetta dovreste avere i soldi e la rispose sì signore e quanto 15 franchi bastano spicciati ragazza mia io comincio a dover fame la signora sim guardava fuori i fiori rampicanti bagnati dal sole e due piccioni che tubavano sul tetto di faccia con aria accorata mormorò è un peccato essere venuti per una circostanza tanto dolorosa sarebbe una giornata tanto bella oggi in campagna sua sorella sospirò senza rispondere e colombelle disse a voce bassa forse turbato dal pensiero della strada la mia gamba pizzica giusepino il cane facevano un baccano terribile l'uno mandava gridi altissimi di gioia l'altro abbaiava a perdifiato giocavano ad acchiapparella attorno alle tre aiole rincorrendosi come pazzi hortensia continuava a chiamare i suoi bambini chiacchierando con ciascuno sognando di vestirli di carezzarli di insegnar loro a leggere su simone ripeti a b c di non pronunci bene su di 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 mi senti ripeti allora sim disse che cose curiose si dicono in momenti come questi la signora colombelle propose allora forse sarebbe meglio tornare vicino a lei ma sim la dissuase perché visto che non potete farle proprio nulla stiamo bene qui nessuno insistette la signora sim si mise ad osservare i due uccellini verdi detti gli inseparabili lo dò con qualche conciaparola questa fedeltà singolare e biasimò gli uomini perché non imitavano quelle bestioline sim scoppiò a ridere guatò sua moglie canticchiò con intonazione beffarda tra la la tra la la come per lasciar capire molte cose sulla sua fedeltà coniugale colombelle assalito ora da crampi allo stomaco batteva il bastone contro il pavimento con la coda in aria entrò nella stanza l'altro gatto solo a luna si sedettero a tavola non appena ebbe assaggiato il vino colombelle a cui avevano raccomandato di bere soltanto bordeaux di prima scelta richiamò la serva senti ragazzina non c'è niente di meglio in cantina sì signore c'è quel vino che riservavamo per voi quando venivate a farci visita ebbene vanno a prendere allora tre bottiglie gustarono il vino che parve eccellente non perché veniva da un notevole raccolto ma perché aveva una quindicina d'anni di cantina sim dichiarò è un vero vino da ammalati colombelle preso da un forte desiderio di possedere quel vino interrogò di nuovo la serva quanto ne rimane quasi tutto signore la signorina non lo beveva mai è nel mucchio in fondo allora egli si volse al cognato col vostro permesso sim io mi terrei quel vino in cambio di un'altra cosa si adatta meravigliosamente al mio stomaco era entrata ora la gallina col codazzo dei pulcini le due donne si divertivano a gettarle le briciole di pane rimandarono in giardino giuseppe il cane che avevano mangiato a sazietà la lesina urtensia parlava sempre ma a voce bassa ora in modo che non si distinguevano più le sue parole quando ebbero finito di bere il caffè tutti andarono ad assicurarsi dello stato dell'ammalata e le sembrava calma uscirono e si sedettero in cerchio nel giardino per digerire a un tratto il cane si misagirava attorno alle seggiole con tutta la velocità delle sue lunghe zampe portando qualcosa in bocca il bambino li correva dietro col fiatone tutti e due sparirono nella casa sim si addormentò sporgendo la pancetta al sole la moribonda ricominciò a parlare ad alta voce poi di colpo gridò le due donne e colombell rientrarono in fretta per vedere quel che avesse sim risvegliatosi non si scomodò perché non gli piacevano scene simili sarà seduta gli occhi sbarrati e torbidi il cane per sfuggire all'inseguimento di giuseppino era assaltato sul letto aveva scavalcato la donna morente e ora con le orecchie basse guardava il compagno di giochi con lo sguardo lucido già pronto a saltare di nuovo in terra per ricominciare la costra teneva in bocca una delle pantofole della padrona ormai strappata a forza di morsi perché ci giocava da un'ora il bambino intimidito da quella donna che si era alzata all'improvviso davanti a lui restava immobile di fronte al letto la gallina entrata anch'essa spaurita per il chiasso era saltata su una sedia che gemevano eccitati tra le quattro gambe della seggiola la regina hortensia gridava con voce lacerante no non voglio morire non voglio chi educherà i miei bambini chi avrà cura di loro chi li amerà no non voglio si ributtò all'indietro era finito tutto il cane eccitatissimo saltò nella stanza scodinzolando con un bel corso alla finestra chiamò il cognato presto venite presto credo che sia morta allora sim si alzò e decidendosi a malincuore entrò nella stanza balbettando è stato meno lungo di quanto avessi supposto per la stanza balbettando è stato meno lungo di quanto avessi portato Grazie a tutti.